buondì come state sono in procinto di fumare l'ultima carica del tabacco di cui parliamo oggi ma volevo premettere che non so se avete notato ho messo la cuffia così speriamo stavolta la pigrizia non ha vinto su di me non so se sarà sempre così però devo dire che la maggior parte degli appunti sull'audio dei miei video è costante sul fatto dell'audio perché poi registro direttamente col tablet spesso all'aperto quando sono in estate come oggi e quindi devo dire la verità sì non è mai eccellente bisogna ascoltarlo al volume alto per sentire tutto spero che almeno questa volta nella pigrizia non ha vinto che lo apprezzate capito andrea tardito ci ho pensato poi ritardo ma ci ho pensato in verità questo video lo vedrete secondo me che saremo già abbondantemente dentro settembre io lo sto registrando che il 10 di agosto un procinto di andare finalmente in vacanza è mercoledì ancora due giorni poi ciao a tutti detto ciò l'ultima carica di un tabacco che non si trova in italia ma mi ha incuriosito molto quando l'ho trovato in germania ed è me lo faccio vedere ormai la busta perché un tabacco da busta è piuttosto rovinata il mcbaren virginia blend ready rabbit quando l'ho visto effettivamente mi ha incuriosito molto primo perché magari sono solitamente dei buoni tabacchi e poi perché è sicuramente uno di quei tabacchi che è una composizione che a me piace molto nei naturali forse quella che mi piace in generale più di tutte assieme a virginia orientali io ci metto sempre virginia barley vi faccio vedere anche se ormai ready rabbit in verità un troppo è una sorta di block and flake in verità ne è rimasto davvero molto poco non è più neanche lavorato in nessun modo vedere colore diciamo marroncino tendente al chiaro sembra più scuro ma piuttosto piuttosto chiaro ci verrà sì e no una carica ancora di questa rinaldo skipper che peraltro ha una composizione anche piuttosto ampia e quindi vabbè è l'ultima è l'ultima devo dire con medio dispiacere un tabacco che ho pagato 11 o 12 euro in germania quindi il prezzo più che onesto direi perché ripeto mia immediatamente l'ho preso immediatamente ha detto a non c'è in italia b e mcbaren che comunque sempre una sorta di garanzia c virginia barley che è quello che a me piace ecco mi è rimasto proprio il rimasuglio vuoi che ci fate quei rimasugli fare un super mischione io a volte li butto a volte se ho qualcos'altro che avanza ci faccio un mischione vabbè detto ciò virginia barley di mcbaren che penso di questo tabacco penso che è una buona miscela mi è piaciuta devo dire la verità mi è piaciuta vi posso fare un paragone molto chiaro che dovrebbe farvi immediatamente capire di che cosa parliamo perché me l'ha ricordato enormemente e me l'ha ricordato sì nei punti di forza ma anche in tutti i suoi punti di debolezza ma un altro tabacco che ho apprezzato molto e credo gli hai ridato un voto simile 7 in questo caso ed è il park lane 7 tolta la composizione quello è un flake anche particolare flake molto lunghi questo è un ready rubbed quello che è indicato sulla sulla busta in verità quasi un broken flake quindi particolarmente grossolana il tipo di taglio peraltro altra cosa che io gradisco moltissimo per me di tutti i tagli di tabacco il broken flake fatto bene è quello che mi piace di più perché mi piace di più perché sostanzialmente è quello che secondo me garantisce la fumabilità se si riesce ad accendere la giusta umidità e quant'altro e la durata assieme al mantenimento di aromi un po più intensi secondo me di tutti i tagli di tabacco è quella meglio riuscita quindi lo apprezzo sempre lo apprezzo sempre molto ha tolta questa panoramica di questo tipo il park lane 7 ci torniamo se l'avete fumato questo è un tabacco che ve lo ricorderà enormemente lo ricorderà sia negli aromi diciamo positivi quindi ottimo già a crudo ma l'odore già è molto buono questo aroma di mandorla il cioccolato c'è sicuramente questa spinta dei barley c'è un barley buono amalgamato con i virginia una tendenza ad essere un tabacco dolce sempre nell'ottica di un dolce assolutamente non chimico un dolce piacevole il dolce di virginia dolce di un barley che certamente non è il barley americano bello tosto duro qui siamo più su un modello che noi diciamo conosciamo di più tipo park lane 7 acceso idem da questi sapori di frutta secca di fieno questi sono i suoi classici sentori molto piacevoli molto buoni però agli stessi difetti come vi dicevo del park lane 7 quali erano i difetti del park lane 7 c'è recensione che non c'è in video l'ho fumato anni fa ma c'è sicuramente sulla sul blog quindi andate eventualmente a recuperare quali sono i difetti del park lane 7 è innanzitutto che è un tabacco sicuramente che non ha una evoluzione di sapori è così rimane così ve lo fumate così per tutta la fumata ma questo sarebbe anche il meno dei problemi il problema che esattamente come il park lane 7 è un tabacco che tendenzialmente ha una degenerazione dei sapori è molto buono nel primo terzo di fornello comincia a perdere una serie di aromi nella seconda metà e diventa sigarettoso alle volte neanche troppo piacevole nell'ultima nell'ultimo terzo quindi è un tabacco molto buono da fumare soprattutto nella prima sua parte devo dire che la sua composizione appunto a broken flakes sostanzialmente gli garantisce una fumabilità piuttosto lunga quindi anche se andate come nel mio caso spesso a buttarne un po il fondo non ancora andato in combustione perdete effettivamente non tantissimo dal punto di vista del tabacco vi prendete tutta la parte degli aromi migliori esattamente come il park lane 7 ma in questo caso in maniera più spinta ha però un tema che è quello del fatto che è un tabacco che va fumato assolutamente in maniera pacata perché è un tabacco che brucia la lingua brucia tanto cioè neanche un'aromatizzata effettivamente bruciava così quindi se non lo fumate in maniera pacata senza farlo mai scaldare troppo a parte che se lo farei scaldare troppo questo tema dei tre momenti decade e arriva al sigarettoso molto prima riuscite a fumare cinque minuti bene e poi tutta commestione di sapori insomma non granché quindi ma assolutamente perdete diciamo la gamma dei sapori questo è sempre molto vero soprattutto quando non parliamo di tabacchi di altissimo spessore ma certamente molto meno quando parliamo in generale di naturale se scaldate troppo perdete gli aromi e qui non cambia il problema a maggior ragione di questo forse il principale problema di questo tabacco che è un tabacco davvero irritante per la bocca anche se fumato lentamente quindi in una weekend come quello scorso in cui l'ho portato con me ad esempio al mare quando sono in una giornata totalmente di relax io arrivo a fumare la pipa anche 5 6 volte nell'arco della giornata però nell'arco della giornata quindi metà mattina dopo pranzo metà pomeriggio poi una carica prima di cena una magari arriva 5 6 fumate la sera la bocca per come l'avessi fumato qualunque fosse stata la la capacità di fumata che credo comunque gestibile bene insomma non sono uno che scaldano la viva ormai insomma un minimo di esperienza per non fare queste cose la bocca la sera era sempre tendenzialmente un po irritata la lingua e la bocca si riprendeva un po la mattina dopo lasciando stare e ripartivi però ecco è un tabacco che se lo doveste fumare costantemente tutte queste volte al giorno non occasionalmente come capita a me soltanto magari nei giorni proprio di vacanza forse consiglierei di alternarlo con qualcos'altro perché sennò penso che a bocca dopo due o tre giorni che fate questo lavoro costantemente a buttare perché diventerà una irritazione infinita detto ciò una bella prova di mcbarren peccato non averlo in italia probabilmente la scelta è stata sul mercato che comunque è abbastanza saturo di virginia barley anche buoni anche su fasce di prezzo non altissime in più mcbarren ha di recente portato un po l'eccellenza della sua linea che hh che principalmente è basato su barley anche un barley di un'altra tipologia c'è un barley americano con un diverso sapore quindi non so se poi quanto abbia interesse a trasportare anche questa questa tipologia qua se però vi capita di prenderlo all'estero belgio germania francia inghilterra spagna credo anche assolutamente provatelo perché è un buon tabacco peraltro l'ultima nota visto l'ho detto che appunto lo stavo fumando in spiaggia un tabacco assolutamente sono mai adatto per l'estate per i suoi sapori per i suoi diciamo aromi estremamente piacevoli ma anche perché è un tabacco assolutamente scarno di nicotina direi che su una scala da 5 come al solito faccio io poi lo potete vedere anche sempre sul blog parliamo di un tabacco da un punto un punto e mezzo insomma davvero basso potete fumare a ripetizione sono mai molto adatto soprattutto nelle parti mediane della giornata metà mattina metà pomeriggio insomma prima di cena dopo il caffè non è certamente il tabacco da accompagnare a una brace di carne magari lì c'è bisogno di qualcosa di un po più intenso per tutti gli altri momenti assolutamente è un'ottima scelta va bene allora io vi lascio alle vostre fumate ciao cari ciao ciao